Dragon Ball Sparking Zero sarà giocabile alla Gamescom, Laika Dragon pare che stia per tornare al TGS, ma soprattutto, ragazzi, è il momento di parlare di EA Sports, di EAFC, perché è stato presentato ufficialmente. Quindi parleremo di questo e altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Era stato anticipato, ragazzi, c'era stato il rumor, ne avevamo parlato e alla fine è stato veramente così. EA Sports FC 25 è stato appena annunciato con un trailer, c'è la data d'uscita, modalità, preordini, insomma un po' tutto quello di cui si può parlare, sempre limitato al fatto che è stato pubblicato un trailer, però ha anche parecchie informazioni. Quindi, vediamo un po' di che si tratta. EA Sports FC 25 è annunciato con un trailer, con data d'uscita, nuove modalità e preordini aperti. Le Tony Cars annuncia EA Sports FC 25, nuovo gioco calcistico che introduce, a quanto pare, tante novità nel gameplay con Rush, una nuova esperienza social 5 contro 5, la revisione delle basi tattiche con FCHQ, IQ, il calcio femminile e i live start points in modalità carriera. Esce il 27 settembre 2024 su PS5, PS4, Series XS, One, PC e Nintendo Switch. Quindi tutto quanto è ancora cross-gen, ebbene sì. Il trailer di debutto mostrata verso il Frostbite Engine, le prodezze calcistiche della star di copertina di EA Sports FC 25, Jude Bellingham. Stiamo rafforzando la nostra visione di un futuro calcistico, incentrato sui tifosi e ridefinendo ciò che è possibile fare in campo con FCAIQ, che utilizza l'intelligenza artificiale e i dati provenienti dal mondo reale per rendere più contemporanee le tattiche dei giocatori e integrare la potenza di Hypermotion V e Playstyles. Ha dichiarato Nick Vlodica, SVP e gruppo GM EA Sports FC. Siamo offrendo ai nostri fan modi innovativi di giocare con Rush, l'esperienza più sociale e coinvolgente che abbiamo mai realizzato, e continuiamo a creare una rappresentazione autentica del gioco più bello del mondo, con l'introduzione del calcio femminile nella modalità carriera. Chi avrà la Ultimate Edition avrà la CES anticipato dal 20 settembre 2024. Prenontando il gioco entro il 20 agosto, in versione Ultimate, ci saranno alcuni bonus, tra cui oggetto giocatori con tempo limitato per Ultimate Team. I preordini sono aperti da oggi e gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate possono giocare dal 20 settembre per 10 ore in accesso anticipato. Poi, ci sono tante novità interessanti effettivamente. Il sistema FCEQ rivoluziona ruoli e tattiche, un sistema basato su intelligenza artificiale che incrementa il numero di opzioni strategiche al fine di modernizzare le tattiche di posizionamento dei calciatori in campo. Le EA utilizzate da EA sono capaci di elaborare migliaia di dati per ampliare gli schemi su cui è possibile costruire la propria visione di gioco. C'è l'introduzione anche del player roles, che stabiliscono il modo in cui ciascun calciatore si comporta in relazione ai movimenti dei compagni e il loro generale atteggiamento in campo. Alcuni potrebbero attaccare più spesso in profondità, altri potrebbero fungere a playmaker e così via. EA elaborerà settimanalmente la sua EA per aggiornare i comportamenti dei calciatori in base alle loro prestazioni reali. FC Rush è come la modalità volta, ma ancora più divertente. FC Rush prende il posto alla modalità volta football e figura come elemento aggiuntivo in ogni segmento del pacchetto FC 25, sia esso kick-off, carriera, ultimate team o clubs. La modalità prevede partite ai ritmi elevati che si svolgono su un campo di dimensioni ridotte. Quattro utenti prenderanno il controllo di altrettanti atleti sul campo, mentre EA gestisce il comportamento del portiere. Il concept di base è quindi condiviso con volta football, ma ci sono altre due novità. Ha il cartellino blu, che spelle temporaneamente uno dei giocatori che hanno commesso un'infrazione di gioco, e modifica la regola del fuorigioco, che si applicherà soltanto a tre quarti di campo in poi. La modalità carriera è più ricca con start point, snapshot e carriera icone. Ha introdotto gli start point che consentono ai giocatori di iniziare una nuova campagna, calciatore o allenatore, a partire da qualunque momento della stagione. Ci sono anche gli snapshot, ovvero avvenimenti tratti direttamente dal calcio reale e trasposti in game, che permettono agli utenti di cambiare il corso degli eventi durante la carriera. Inoltre la modalità carriera icone permetterà di affrontare un intero campionato nei panni di una delle leggende del passato, tipo Pirlo, Val Nisteroy, Smith, Thierry Henry, Zin Zidane, Beckham, Ronaldo il Fenomeno, figurano come bonus pre-order. Da non dimenticare infine l'aggiunta dei campionati femminili con le licenze di cinque principali leghe a livello mondiale. Novità e migliorie della modalità foot, che torna ovviamente anche in eSports FC25. Per l'occasione è stato snellito il metodo di conservazione dei doppioni non scambiabili, è stato pesantemente modificato il sistema di evoluzioni, con maggiore attenzione alla personalizzazione estetica delle carte. È stato poi rivisto il sistema di checkpoint, che determina l'avanzamento di grado, aggiunge un matchmaking amichevole, è integrato un app social che riflette i colori sociali della vostra squadra e che può essere modificato a vostro gusto. La modalità foot accoglie FC Rush, che vi consente di giocare partite 5 contro 5, che migliori atletiche avrete ottenuti in foot. È il sistema FC IQ, che renderà l'experienza di gameplay più profonda che mai, che quindi c'è anche in questo. Grafiche e animazioni sempre più realistiche, grazie a Hypermotion V e Cranium. C'è la più recente build del Force Byte Engine, tirato a lucido per gestire ogni situazione di gioco fornendo la migliore resa grafica possibile. Torna anche la Hypermotion V, grazie al quale vengono ricreate fedelmente le animazioni dei più celebri calciatori mondiali. La tecnologia è stata ulteriormente elaborata per lavorare e per riprodurre in maniera più autentica le movenze dei giocatori. Poi ci sono fattori ambientali, come il vento e il campo bagnato, che contribuiscono all'esperienza più realistica. E poi EA Cranium, grazie al quale EA Sports è riuscita a modellare in maniera mai così autentica e realistica l'aspetto fisico dei giocatori. Per il comparto tecnico, le due modalità di gioco dettaglio e risoluzione. La prima darà importanza a effetti grafici, mentre la seconda alla risoluzione 4K, in tambe garantiscono i 60 FPS. E poi, ragazzi, c'è l'accesso anticipato, che è sostanzialmente in tre modi diversi. Ovvero, l'Ultimate Edition, che costa soltanto 109,99€ su PS Store, su Xbox Store, 9,99€ su PC e 7,99€ su PC e 79,99€ su Nintendo eShop, per la versione Switch, e poi c'è l'abbonamento EA Play Pro, che ti dà effettivamente l'accesso alla Ultimate Edition, se mantieni l'abbonamento, i 16,99€ al mese, oppure 119,99€ all'anno. Poi, EA Play su PC e PlayStation e Xbox avranno l'accesso alla versione di prova di 10 ore, sempre il 20 settembre, e EA Play è incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate, perciò, chi è abbonato a questo avrà comunque la versione di prova di 10 ore. E infine, ragazzi, ci sono tutte le licenze già confermate, quei campionati di stadi, calciatori. Sono oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, più di 120 stadi e più di 30 campionati. E FC24 ne aveva di più, cioè, ne aveva un pochettino di meno. Quindi, c'è il maggior numero di calciatori stadi rispetto al predecessore. Per chi se lo sta chiedendo, ragazzi, non c'è ancora la lista delle squadre su licenza della Serie A, d'accordo? Ma il nostro campionato è nuovamente rappresentato con tanto di iniziativa ricorrente Player of the Month. In sostanza, 700 e passa squadre su licenza, quindi molte ci dovrebbero essere. Quindi, ragazzi, è ovviamente uno dei giochi più attesi, uno dei giochi più venduti in assoluto, e quindi, ovviamente, attrae moltissimo. Il problema è che, almeno sia chiaro, ci sono delle persone molto più esperte di me su FIFA che possono darvi molti più dettagli, e quindi questo è uno dei casi in cui raccomando altri creator che si occupano di questo per scendere più nel dettaglio di questo tipo di annunci. Però so che di anno in anno c'è sempre il problema del fatto che c'è un nuovo gioco da comprare, tanti soldi da spendere, ma non così tante innovazioni. E ogni anno ripromettono che invece di innovazioni ce ne sono, e ogni anno va un po' così così. Non so dire bene che cosa sia effettivamente cambiato di concreto quest'anno, però un po' di cose ci sono, sia lato tecnico, sia modalità di gioco, che cambiamenti al foot, che cambiamenti di qua, di là. Quindi un po' di cose ci sono, ed è uno di quei casi in cui, me lo direte voi, se sono effettivamente a un primo acchitto abbastanza, oppure se è un qualcosa che è un po' dimenticabile. Quindi, questa la prendo un po' più come cronaca, però nelle news non si poteva trattare l'uscita di uno dei giochi più attesi dell'anno, giusto? È un po' come quando esce COD, ne dobbiamo parlare per forza. Quindi, questo è quello che sappiamo di FC 25. Ovviamente arriveranno delle altre notizie di cui avremo modo di parlare, ma per adesso è questo. Bene ragazzi, invece del commento del giorno, oggi voglio prendermi uno spicchietto per dirvi che, come vi ho già anticipato, mi pare, nelle news di ieri o dell'altro ieri, c'è effettivamente qualcosa di nuovo, perché io ho rinnovato il Patreon, e questa è una cosa che già sapete, potete trovare il link qui sotto in descrizione, ma su Patreon è già disponibile in questo momento un contenuto che ancora nessuno ha avuto modo di vedere. In sostanza, è il backstage delle news, d'accordo? Che è già disponibile su Patreon, poi ovviamente arriverà su YouTube in questa domenica, ma se volete alcuni contenuti in anteprima potete andare qui. E ce n'è anche un altro che ancora non è comparso su Patreon, ma che ho già registrato, ovvero la prossima puntata del podcris. E quindi con questo voglio dirvi che su Patreon arriveranno in anticipo alcuni dei video speciali, sto anche preparando le canzoni, sto anche preparando degli aggiornamenti e degli approfondimenti, dei video molto studiati, con tanta ricerca dietro, che arriveranno prima su Patreon e solo dopo su YouTube. Ovviamente voi direte, va bene, si può sempre aspettare YouTube, certo, il Patreon è una cosa opzionale per chi mi vuole supportare, però è molto importante, ragazzi, ed è soltanto 3 euro al mese, perciò è una cosa molto, molto abbordabile. Ed è un modo per supportare il mio lavoro, ed è francamente il migliore che ci sia, perché Patreon, a differenza di qualche altra piattaforma, si prende una percentuale molto più bassa, quindi se volete supportarmi nella maniera migliore possibile, link in descrizione. Potete, diciamo, fare elaboramento su Patreon, ed è davvero un aiuto. Quindi, se vi va, sapete dove trovarlo. Ti piacciono le news? Allora non essere come i malnati. Lascia un bel like a questo video per valorizzare le news, rendere contento Chris e far capire all'algoritmo di YouTube che questo video è estremamente figo. Lascia un like al video, così Chris è felice, le news vengono diffuse e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora le news a ruota, ragazzi. Dragon Ball Sparking Zero sarà giocabile alla Gamescom. Bandai Namco svela la line-up. Manca poco più di un mese all'inizio della Gamescom 2024, e Bandai Namco ha calato le sue carte svelando i nomi dei videogiochi che porterà a Colonia. Sono tre gli assi pronti ad essere calati dalla compagnia giapponese. C'è Little Nightmares 3, non vedo l'ora di vederlo. Hanno un 9, Awakening, anche quello interessante. E poi si potrà provare con mano. Dragon Ball Sparking Zero, per la prima volta in formato giocabile nel vecchio continente. Il nuovo capitolo ufficiale della saga Ibudokai Tenkaichi. E vabbè, non c'è molto altro da dire, ragazzi, perché sapete bene che è un gioco attesissimo, d'accordo? E a quanto pare lo vedremo alla Gamescom, quindi ci sarà in loco da provare per chi ci va. Ma immagino che ci sarà un approfondimento anche durante l'Opening Night Live, che ovviamente vedremo in live insieme questo evento. E di nuovo, se ancora non mi seguite su Twitch, link in descrizione. Andatemi a seguire lì in anticipo, d'accordo? Quindi c'è questo, manca all'incirca un mesetto. Sicuramente lo vedremo. Ottima notizia. Poi, Xbox Game Pass. Le sorprese in luglio non sono finite per un insider. Forse è in arrivo un COD. Ne avevamo già parlato, ragazzi, ma secondo Ecstasis sarebbero in arrivo due ulteriori titoli. Ovvero Call of Duty Modern Warfare 3, il più recente capitolo della serie Sparatutto, e Dave the Diver, che ha combini elementi action-adventure e gestionali. Entrambi sono ottimi titoli, ovviamente. Dipende dai gusti. Microsoft ha lasciato intendere che le novità per gli abbonati non erano ancora terminate. Ha suggerito di utilizzare le antenne, quindi quello potrebbe essere effettivamente l'annuncio interessante. E Dave the Diver, se non l'avete giocato, fatelo, perché è molto molto carino. D'accordo? Quindi, in parte ne avevamo già parlato, però la news sembra rinforzarsi. Già, il rumor sembra rinforzarsi. Poi, chi è Emio? Svelato il mistero del teaser pubblicato da Nintendo. Ebbene sì. Dopo aver assistito al teaser, tutti gli appassionati del mondo Nintendo hanno immediatamente pensato a ritorno di qualche celebre serie horror. Nessuna di queste ipotesi però ci ha preso, perché per stessa ammissione del colosso nipponico, quello non era altro che un teaser per un nuovo gioco della serie Famicom Detective Club. Ebbene sì. Il titolo in questione è Emio, l'uomo che sorride, Famicom Detective Club e la sua uscita non è così lontana. È il 29 agosto 2024. L'annuncio è stato fatto con un lungo filmato in cui il producer e sceneggiatore della serie Yoshio Sakamoto spiega il motivo per cui ha deciso di tornare a lavorare sul brand dopo tutto questo tempo. Effettivamente sono trascorsi 30 anni dall'ultimo capitolo. E questa è una cosa che comunque, per carità, è stata un po' forviante la cosa, però io credo che la notizia possa far piacere a molti, perché è una serie che non si vedeva da un sacco di tempo e quindi adesso è tornata, diciamo, in vita e questo penso che farà molto piacere a tanti. Poi, sentite questa, Like a Dragon sta per tornare. Un nuovo gioco sarà annunciato al TGS 2024. Dopo il grande successo di Like a Dragon, Infinite Wealth, che vende più veloce che mai, Siga e Ryu Kagotoku Studio si sono subito concentrati sul prossimo gioco del brand. Ryu Kagotoku Studio ha rivelato che lo sviluppo del nuovo progetto è già in fase avanzata, quanto basta per un annuncio ufficiale nel corso del Tokyo Game Show 2024, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre. Non ci sono ulteriori dettagli, però già questo è molto. Il che vuol dire? Che durante l'evento lo potremo vedere. L'effettiva natura del gioco non si sa, potrebbe essere un seguito diretto di Like a Dragon Infinite Wealth, ma, data la notevole vastità dell'ultimo episodio, è improbabile che sia già pronta a rivelare un Like a Dragon 9 con portata pari se non superiore al predecessore. D'accordo? Magari un titolo a portata più piccola, però, insomma, vedremo. Ci sono delle conferme su Yakuza Kiwami 3, prima o poi diventerà realtà, forse è proprio questo il progetto in cantiere. Non si sa, però, insomma, è un titolo di questa serie, quindi tenere d'occhio l'evento. Poi, The Casting of Frank Stone, lo spin-off di Dead by Daylight, ora ha una data ufficiale. È il gioco fatto da Supermassive Games, nell'ambientazione di Dead by Daylight. I leak si sono rivelati veritieri e il gioco è in uscita il 3 settembre 2024, in due edizioni distinte, Standard e Deluxe. E quest'ultima comprenderà l'accesso istantaneo a The Cutting Room Floor, funzione che consente ai giocatori di tornare alle decisioni chiave della storia e di cambiare gli esiti della vicenda, compiendo scelte alternative. E ci sono anche otto costumi alternativi. In sostanza, ragazzi, ora sappiamo la data del gioco. I giochi di Supermassive, per chi non sapesse di che si tratta, sono giochi estremamente narrativi a risposta multipla e quick-time event, in cui, in sostanza, si deve prendere delle decisioni che influiscono sulla trama. Bisogna tenere in vita i personaggi, praticamente, cosa in cui io puntualmente fallisco. Però, vabbè, questa è un'altra questione. Poi, perché Eldivers 2 ha una pagina sul sito Xbox? Qualcosa si sta muovendo per il porting? Ora, attenzione, no, non c'è una conferma, ma c'è una stranezza che vogliamo segnalarvi. Sul sito di Xbox Wire è comparso un tag denominato Eldivers 2, che porta una pagina vuota, ma comunque esistente sul sito ufficiale di Xbox. Il link non rimanda a una pagina di errore 404, una pagina inesistente. C'è un messaggio di errore dal momento che la pagina in questione non esiste, se lo fai, insomma, se hai l'indirizzo sbagliato. Quindi, perché sul sito Xbox Wire c'è questa pagina misteriosa? Da qui è nata una speculazione che vorrebbe Eldivers 2 aggiungere su Xbox Series XS. Però è una traccia labile, ok? Quindi va presa molto con le pinze. Dopotutto è un po' che se ne parla di questa cosa, e va preso tutto con le dovute precauzioni, però è pur possibile. In effetti, dopo tutto, è effettivamente un live service, e sarebbe però un precedente interessante, perché è un gioco Sony. Questo qua, proprio, diciamo, è un gioco non first party, ma quasi, di Sony. Sì, cioè, effettivamente, non è un gioco PlayStation Studios, però è un gioco fatto da Sony, no? Come publisher. Quindi, chi lo sa, potrebbe essere un bel precedente. E poi, ragazzi, PS5 dà il benvenuto a Paramount Plus, l'app per lo streaming ora disponibile in Italia. Mi avevo dovuto pazientare a lungo, ma alla fine Paramount Plus è riuscito a trovare la strada per PlayStation 5. E da martedì 16 luglio, cioè, dall'altro ieri, gli utenti italiani di PlayStation 5 hanno la possibilità di scaricare l'applicazione Paramount Plus per abbonarsi e accedere al basso catalogo di film e serie TV della piattaforma di streaming con tante altre, insomma, un sacco di robetta e è già disponibile su Xbox fin dal novembre del 2023 oltre che su tutti i dispositivi elencati a questo indirizzo. Quindi è una novità fino a un certo punto, però adesso c'è anche su PS5. Ora, c'è una cosa di cui voglio parlarvi. C'è un rumor. Forse l'avete sentito già. Pare, e sottolineo pare, che qualcuno abbia detto che Rainbow Six Siege 2 è in sviluppo ed è, diciamo, in uscita, no? La presentazione dovrebbe essere nel 2025. Ma va preso molto con le pinze questa cosa. Io francamente non ci credo un granché, vista la fonte. Io ve lo dico perché è una cosa su cui c'è molta attenzione e forse l'avete letto anche voi. Vi raccomando di prenderla molto con le pinze questa cosa perché potrebbe tranquillamente, anzi, è più probabile che non sia vera. Però io ve la riporto, no? Se l'avete sentita, di nuovo, molto con le pinze. E per quanto riguarda l'offerta del giorno, ragazzi, dato che l'abbiamo portato in live ieri, My Time S Endrock è un giochino molto interessante, seguito del fortunato My Time at Portia ed è un gioco di, praticamente, simulazione di vita di un costruttore che deve costruire un sacco di cose, raccogliere materiali, e ne viene di mezzo da un survivor, qualcosa del genere, insomma. È molto interessante. Dateci un occhio ed è in sconto in questo momento su Instant Gaming del 31% e costa 24,30 euro. Come sempre, ragazzi, se volete prenderla attraverso il link qui sotto in descrizione. Io sono partner di Instant Gaming, quindi è un link affiliato e a me arriva qualcosina, quindi è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene, gente, è tutto per le news di oggi. Grazie mille per aver visto questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch e lasciate un bel like questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che, come sapete, escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.